bene ragazzi eccoci con un nuovo episodio di super robot wars tirti ho visto che domani dovrebbero uscire i nuovi dlc con oppure sono questi sinceramente non lo so si dovrebbero sbloccare due nuovi personaggi oltre a una storia inedita quindi io per adesso faccio queste due della storia così vedo se sono effettivamente questi ma dovevano uscire il 13 oggi 12 quindi pu vediamo è comunque per la storia finale portatevi gente che vi riesce a fare il muro se no col boss finale ve li fanno fuori ciao 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 bene ragazzi abbiamo completato due missioni che continuano la storia sono a 26 di livello i robottoni quindi continuerete a far salire il vostro equipaggio in buon modo e soprattutto chi ha speso soldi per la dlc vede cosa va incontro ma non so se queste sono quelle che sbloccheranno quei nuovi personaggi oppure partono da domani comunque comunque se vi è piaciuto il video 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 mettete un like se volete vedere come completare tutti i dlc disponibili iscrivetevi al canale ciao 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 ciao